Torna anche quest'anno il Fire Party, l'ormai classica carellata di eventi organizzata a Merate dall'Associazione Amis di Pompier, in collaborazione con i Vigili del Fuoco della cittadina Brianzola. La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, è diventata un vero cult tra gli appuntamenti estivi, attirando migliaia di persone di ogni età, all'insegna del buon cibo, del divertimento e non da ultimo della solidarietà, poiché i fondi raccolti contribuiscono a sostenere il distaccamento volontario dei pompieri di Merate. Allestito nei pressi della caserma di Via Appiani, il Fire Party promette giorni infuocati da trascorrere con la famiglia e gli amici per assaporare musica, tornei sportivi, spettacoli. Un ricco ventaglio di proposte attende dunque i partecipanti dal 1 al 10 settembre, da segnalare il gettonatissimo percorso Pompierini, che consentirà ai più piccoli di vivere un'esperienza unica, a partire dalle 14.30 di sabato 2 settembre e ogni pomeriggio per l'intera durata della manifestazione. E ancora un grande scivolo gonfiabile, la pista con le automobili elettriche, gli spettacoli circensi, le esercitazioni e i concerti serali. Le principali novità dell'edizione 2017 saranno la serata greca con numerose specialità culinarie, musiche e animazione tipiche, giovedì 7 settembre, e la parata con delegazioni straniere nella mattinata di domenica 3 settembre in Piazza Prinetti. Inoltre accanto al ristorante e alla pizzeria sarà in funzione anche l'esclusivo Ciringuito, un chiosco in puro stile espagnol, che offrirà ottimi cocktail e pregiate birre alla spina, mentre il carro shop, ispirato a un mezzo di epoca ottocentesca dei civici pompieri, sarà un'originale vetrina per i gadget dell'evento, che potrà essere seguito anche attraverso una webcam in diretta streaming.